Parla Signore, parlaci ancora 14 gennaio Ci sono così tante cose meravigliose da fare nella vita Tu cosa sai fare meglio? Scoprilo e poi fallo con piacere Non sprecare tempo ed energie nel desiderare una cosa diversa oppure nel voler essere altrove e con altre opportunità Riconosci di trovarti esattamente laddove devi essere nel momento giusto e questo per una ragione particolare, per eseguire un compito specifico Dedica allora tutto ciò che hai a tale compito ed eseguilo con amore e gioia Guarda come la vita può essere divertente per te ma anche per tutte le anime che ti circondano Non puoi sperare di diventare parte del tutto se non offri quanto vi è di meglio in te Se ti tagli fuori da solo non vi sarà più interezza in te Che profonda soddisfazione proverai quando compierai perfettamente quanto deve essere fatto e lo compierai per il bene di tutti